Il dottor Antonio Ciampa, responsabile del centro emostasi dell'ospedale Moscati di Avellino, oggi indossa il camice bianco, ma il 14 maggio si spoglierà della sua veste, sia di medico che di responsabile di questo importante centro, per diventare un calciatore, cosa che fa spesso perché c'è una squadra che si chiama Moscati Team. Spieghiamo prima questa squadra cos'è. Beh, questa squadra è nata un quattro anni fa, grazie all'idea di una dottorista, dottoressa Iannacone, per la quale organizziamo una partita, sempre con la Nazionale Attori, per beneficenza per i pazienti con Parkinson. Da lì è nato un legame tra noi dipendenti dell'azienda ospedaliera, per cui abbiamo sentito proprio l'esigenza di continuare a vederci. Sono passati tre, quattro anni, ci alleniamo continuamente, facciamo anche delle trasferte e abbiamo colto l'occasione per ricontattare la Nazionale degli Attori e quindi abbiamo questa scadenza il 14 maggio che ci vedrà impegnati contro questa Nazionale. Diciamo qualche nome, non della Nazionale degli Attori perché sono meno famosi dei medici che fanno parte di questa squadra, quindi qualche medico, Avellineso Irpino, che fa parte di questa squadra, che magari tanti telespettatori conoscono così con il camice bianco e non immaginano che invece sono dei bravissimi calciatori. Tengo a precisare che non ci sono soltanto medici, tutte le varie professionalità validissime di questa azienda sono ben rappresentate. Voglio anche dire che la ringrazio per il complimento di calciatore, però mi sento forse più medico che calciatore, infatti la mia presenza sarà piuttosto limitata per vari infortuni tecnici. Ma ci sono anche molti calciatori che credono di essere medici, quindi siamo pari. E vabbè, siamo uno a uno, speriamo che finisca in questo modo, che non si distruggano, però noi penso che venderemo cara la pelle. E quindi i nomi di questi suoi colleghi o personale dell'ospedale? Vabbè, innanzitutto, gioco forse, abbiamo il cardiologo. È necessario in una partita del genere? È indispensabile, è l'ottimo dottor Ciro Mariello, un validissimo difensore. Abbiamo il primario della gastroenterologia, se magari qualcuno ha paura e veda lei, Giardullo Nicola. E poi abbiamo con Antuoni Giuseppe, ottimo oncologo. Abbiamo anche gli infermieri del 118, non a caso vede, cardiologo 118. Non si sa mai. Non si sa mai, sgrosso Gerardo, nonché l'autista del 118. Infatti prepareremo un'ambulanza vuota, pronta all'uso, Gavitone Giuseppe. Destinazione all'ospedale di Avellino o qualche altra struttura? L'ospedale di Avellino, sperando di rimanere lì. Dicevamo invece degli attori, saranno tantissimi presenti a questo appuntamento del 14 maggio, alcuni hanno già dato l'adesione, altri la daranno nei prossimi giorni. Ma la presenza di questi attori ha un motivo particolare? Il motivo è dettato dal fatto che sono persone che richiamano spettatori. Diciamo che il prezzo del biglietto è simbolico, 5 euro, insomma ce n'è per tutti. Però è ovvio che se gioco io e gioco il dottor Mauriello, forse verranno soltanto le famiglie a vederci. Mentre invece se c'è Sebastiano Somma, se c'è Zeno, se c'è come dicono Alessandro Siani, beh, penso che qualche persona in più verrà. L'incasso di questa manifestazione sarà devoluto all'Aipa, che non è la protezione animale? No, neanche con tutto il rispetto, né protezione animale né pazienti autistici. Purtroppo non c'è stata molta fantasia nel cercare il nome Aipa sta per l'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati. Il responsabile provinciale di questa associazione è Ermanno De Vivo. Cosa si aspetta e soprattutto perché è stato organizzato questo appuntamento? È stata organizzata, prima cosa, per la conoscenza delle nostre problematiche, le problematiche di un paziente anticoagulato. Poi noi ci aspettiamo una bella cornice di pubblico perché deve essere una festa a cui parteciperanno tutti. Avellino scende in campo, non scende in campo solo i medici. I medici rappresentano una nostra realtà, una nostra bella realtà di Avellino. L'appuntamento è allo stadio partenio di Avellino, giusto? Orario? Noi apriremo i cancelli alle ore 15, poi ci saranno diverse manifestazioni, alle 17.30 inizierà la partita. E dopo la partita ci sarà la possibilità di autografi, foto e selfie? Sicuramente, sicuramente penso che gli attori, anche i medici saranno pronti. Anche i medici dovremmo filmarli noi? Sicuramente, voi sarete pronti sicuramente a filmare autografi e selfie e questo poi dopo verranno date anche loro in beneficenza a chi ne vorrà. L'attività di questa squadra, della Moscati Team, non si ferma soltanto a questa partita del 14 maggio? Le vostre attività come si svolgono durante l'anno? Allora, noi ci vediamo periodicamente, minimo una volta a settimana, abbiamo organizzato delle trasferte ad esempio a Manfredonia, dove l'appuntamento ogni anno è fisso. Anche gastronomico, credo? Soprattutto gastronomico, tant'è vero che durante la partita qualcuno non ce la fa, ma a tavola ce la facciamo tutti. Ci vediamo con alcuni colleghi di Nola e noi abbiamo partecipato anche a un triangolare ad Agropoli, di cui si vede il gagliardetto della squadra cecoslovacca e lì sopra c'è un bel po' di trofei. Noi cerchiamo di portarne uno, importante quello del 14 maggio, che non è tanto la coppa che uno può vincere, quanto una buona, come diceva De Vivo, una buona cornice di pubblico, un buon successo per poter con l'incasso riuscire a realizzare l'obiettivo. Per cui abbiamo organizzato la partita. Inutile parlare di pronostici perché sembra che ci sia già qualche... Ma diciamo che i bookmakers inglesi ci danno la vittoria 1 a 10, però noi cercheremo di vedere come va a finire. Ma si parla già di partita combinata e qualcosa del genere, puoi smentire? C'è qualcuno che dobbiamo marcare a uomo perché vuole vendersi la partita, però noi confidiamo nel nostro portiere che magari sarà atleta fino alla fine, anzi sportivo fino alla fine. Con un suggerimento, chi vende la partita magari quello che ricava lo porti in beneficenza l'associazione. Se poi si vende la partita e la vende a caro prezzo e fa un bel ricavo, noi accettiamo anche quell'incasso. Quindi l'appuntamento al 14 maggio allo stadio Partenio di Avellino. Compatti.